61. Roma 10 giugno 1948. Carissimo fr. Raffaele, faccio seguire la lettera inviata a te per il tramite del padre Priore, padre Arduino, perché mi sono dimenticato di comunicarti il numero del libretto di famiglia. Ti restituisco gli scontrini con il numero 19811. La tessera che hai tu è valida per cinque anni, a quanto mi hanno assicurato. Tu puoi segnarci sopra il numero del libretto. Ad ogni modo adesso chiedo una tessera nuova. Hai letto sull'osservatore romano della domenica di questa settimana che come vi sono i cappellani militari presso ogni reggimento, mi pare di aver incontrato a Santa Teresa una volta un padre carmenitano scalza che aveva i gradi di cappellano militare. Così vi saranno dei cappellani del lavoro presso ogni fabbrica o gruppo di fabbriche importanti. Se si arriverà a questo, incomincio a vedere veramente la soluzione della questione sociale, auspicata tanti anni fa dall'immortale pontefice Leone XIII nell'enciclica Rerum Novarum, messa in pratica e debellata definitivamente ogni teoria marxista. Tanti ossegui ringraziamenti ai tuoi superiori per le cure che hanno di te e a tutti i novizi e professi. La santa benedizione da tuo padre.